ok oggi è la prima volta che provo questa questo apparecchio che si chiama gopro 5 proviamo insieme giustamente e ci facciamo la prima la prima discesa la prima discesa nell'anno 2018 mi metto il casco e la proviamo insieme ok mettiamoci il zanetto mettiamo i guanti ok siamo pronti ok ciao 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 Grazie a tutti 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 Adesso Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti